Quali carte saranno presenti negli starter dal quindicesimo al ventesimo? Che impatto avranno sul mercato delle singole? E quali tra questi risulterà essere più conveniente in rapporto qualità-prezzo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Finalmente ci siamo! I 5 starter deck che riproporranno alcuni dei leader più forti che hanno calcato la ladder nei set passati sono stati rivelati assieme alle carte contenute in essi. Utaverde, Duffy Blue, Luffy Viola, Smoker Nero, Catacuri Giallo e Barba Bianca Rosso infatti torneranno a far parlare di loro grazie ai mazzi precostruiti che le vedranno protagonisti assoluti, supportati da alcune carte che ne fortificheranno le dinamiche rendendoli pericolosi quel che basta. Chi più chi meno. Alcuni elementi inoltre hanno davvero sorpreso l'utenza, dato che fino ad ora sono stati consegnati unicamente come premio nei tornei organizzati, rendendoli desiderati per molti aspiranti re dei pirati che hanno cercato di recuperarli a cifre abbordabili con l'intento di dare una marcia in più ai propri deck. Ebbene, in questo video andremo a scoprire quali saranno queste carte che impatto avranno sul mercato delle singole e sulle loro sorelle già presenti in mercato e quali di questi starter converrà acquistare per la maggiore per riuscire a reperirle. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme il contenuto dei sei deck in arrivo e quali carte avranno un impatto maggiore sul mercato secondario nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. I sei starter deck che vedranno, come già detto, una numerazione che partirà dal quindicesimo al ventesimo apporteranno novità interessanti per i rispettivi leader, come ad esempio le nuove SR che ritrarranno, Katakuri costo 5 e Big Mom costo 6 per il giallo, Barba Bianca costo 7 ed Ace costo 5 per il rosso, quest'ultimo utile in vista anche di eventuali impieghi tra le file di Sabo dei tre fratelli, Ina costo 4 e Tassigi costo 5 per il nero, Luffy costo 8 e Zoro costo 4 a 6.000 di forza per il viola, Lo costo 4 e Boa con lo stesso valore di gioco per il blu ed infine Shanks il rosso costo 9 con sua figlia costo 4 per il verde. Le liste sono state quindi rivelate e tra le fila di ogni mazzo ci sarà più di una novità che potrà essere impiegata in partita, abbiamo accennato solamente alle SR presenti nelle diverse profile, ma se siete stati degli osservatori attenti, in due deck sono comparse carte molto interessanti, disponibili proprio negli ultimi due colori, ovvero il blu e il verde. Infatti sia nella lista di Doffi che di Uta si potrà reperire il playset completo di Bartolomeu Promo 29 e Gimbe Promo 30, forniti unicamente in tornei ufficiali organizzati e disponibili nel mercato secondario a cifre che si aggiravano nei picchi di massimo valore tra la ventina e la trentina di euro ciascuno. Ma ora saranno disponibili in quattro copie e vorrei porre l'accento su questo fattore. Quattro copie, ognuno nei propri starter di riferimento, i quali prezzi indicativi si aggireranno attorno ai 15-20 euro e ciò di sicuro non farà bene al mercato valutario di queste carte. Già perché stando alle attuali quotazioni Bartosia gira di media attorno ai 15 euro e Gimbe ai 9 e converrete con me che anche se un deck iniziale dovesse costare 25 euro alla peggio, il gioco varrà comunque la candela. Quindi Arconte consigli di vendere queste carte ora prima che il prezzo crolli? La risposta è sì, liquidatele ora se ne avrete la possibilità. Purtroppo le ristampe vanno a colpire sempre duramente il prezzo di ogni singolo elemento, riequilibrando i prezzi a quote molto più accessibili per chi vuole dare inizio alla sua avventura nel TCG di One Piece come per ogni altro gioco di carte collezionabili. Questo sta ad indicare inoltre che dalla casa madre c'è tutto l'interesse di abbassare le barriere di accesso al gioco, permettendo a quanti più curiosi di avvicinarsi alle dinamiche di questo GCC in vista anche del The Best che porterà con sé novità davvero molto interessanti. Poi sia chiaro, magari in un futuro non molto lontano sia alla promo 29 che 30 non avranno largo utilizzo nel meta che verrà, come non lo hanno trovato nel meta attuale, a parte in qualche profile che ha permesso una sporadica comparsa ad una di loro, ovvero UTA per Bartolomeu. Ma a parte questo, il vedere presenti articoli di tale caratura, addirittura in playset, mi ha personalmente colpito, confermando le teorie che ho avanzato tempo fa. Ovvero, arriverà un momento di reprint massiccio che andrà a colpire marginalmente o profondamente, come in questo caso nello specifico, il mercato secondario. E sarà proprio in queste situazioni che ci sarà da fare una duplice scelta. Vendere per rientrare dell'investimento o limitare i danni a seconda della cifra di acquisto o mantenere i saldi alla rotta verso il futuro, assumendosi però ogni rischio che questo preserverà. In ogni caso comunque, nessuna paura, non si parla di azioni le quali perdite ammonteranno a milioni di dollari. Sappiate che qualsiasi scelta prenderete andrà bene, anche perché non sarà obbligatorio acquistare gli starter in questione. Infatti nessuno vi vieterà di recuperare come sempre le sacrosante singole, investendo i vostri fondi destinati ai TCG in modo oculato e mirato. Per quanto riguarda invece quali dei 6-7 scegliere, beh, la risposta sarà. Quale colore state giocando attualmente? Il verde? Andate di Uta. Il blu? Doffi. Volete rispolverare barba? Ecco fatto, una bella lista pronta ad essere utilizzata e così via. Ricordate comunque che questi articoli saranno destinati ad un pubblico di novizi e non di veterani. Questi ultimi dovranno perciò testare l'efficienza delle nuove carte presenti in essi per potenziare i loro già potenti equipaggi, mentre per chi sta levando l'ancora per la prima volta con l'intenzione di salpare, devo ammetterlo, troverà nelle profile visti ad inizio contenuto un validissimo punto di partenza. Concludendo, i 6 starter deck che arriveranno ad ottobre per il mercato europeo riserveranno piacevoli sorprese per tutti gli appassionati che vorranno muovere i primi passi in questo GCC, rappresentando la scelta perfetta ideata principalmente per i pirati in erba, ma anche per chi compete navigando per i sette mari da tempo. Essi infatti forniranno risorse nuove per rafforzare i propri ranghi, ideando strategie sempre più micidiali atti a devastare le difese rivali. E voi cosa ne pensate di questi articoli? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.